buongiorno ragazzi eccomi qua max matt oggi tempo grigio qui a tenerife non so se vedete che cosa orribile succede anche qui dietro c'è l'oceano oggi è grigio spero però che non sia una giornata grigia per noi l'ho fatto questo benedetto software ammortizzato per la roulette quindi adesso vi vedete il video è un video lungo dura tanto dura circa quasi un'ora un'ora non lo so di preciso sono ancora in fase di montaggio ma purtroppo è un sistema talmente importante certosino che prevede anche delle spiegazioni chiaramente di una certa specifica come come si suol dire seguitevelo tutto perché altrimenti non ha senso io ho preparato la versione gratuita e la versione a pagamento per i professionisti che conoscono già questo mondo gli altri tranquillamente approcciatevi con calma se fate una donazione grazie perché ci lavoriamo sopra e anche tanto io vi auguro intanto una buona serata perché tanto il tempo che finisco di fare il montaggio e quant'altro si è fatta sera poi voi state un'ora avanti in italia quindi si fa ancora più sera spero che apprezzate quello che è stato fatto spero che apprezzate ovviamente tutto quello che fa max matt scommesse matematica c'è pure vento mi avete visto finalmente ne vedete altre volte ho pensato che è troppo facile nascondersi dietro una voce e dietro un software io non ho nulla da nascondere faccio cose che normalmente sono diverse dagli altri lo sapete non penso non ho mai pensato di fare un progetto perché come fanno tanti per carità poi ognuno dice quello che vuole di dire ah io col mio metodo fate i milioni di euro no col mio metodo o con i miei metodi impariamo a non perdere poi casomai dato che impariamo a non perdere pensiamo anche a incassare un forte abbraccio a tutti quanti max matt guardatevi il video il video guardate dall'inizio alla fine quindi se adesso ci avete da fare aspettate un orario tranquillo e poi vedete un bacio a tutti buon pomeriggio da scommesse matematiche e max mart ci siamo abbiamo fatto questo piccolo miracolo di creare ammortizzatore naturale per la roulette d'altronde scommesse matematiche non vive solo dei progetti per lo sport ma essendo comunque scommesse matematiche qualsiasi forma di scommessa ove verifichiamo chiaramente che ci siano dei parametri ammortizzabili noi cerchiamo di studiare capire come ottimizzare questi parametri per rendere vita facile ai nostri iscritti ce l'abbiamo fatta è stato un lavoro lunghissimo vi dico fin da subito così sarete contenti che si è una versione questa è una versione professionale in realtà ci sono due pagine con cui intrete interagire per i più esperti ed è chiaramente a un costo ma una volta che ci avete questa penso che potete andare su qualsiasi casinò del pianeta terra o anche casinò live online sia ben chiaro live online no i casinò online normali perché lì subentrano dei fattori matematici di stringhe matematiche create apposta dai bookmakers e quindi in questo caso dai gestori dei casino online dove nel lungo periodo perderete sempre non so se mi è mai capitato di leggere o sentire che uno ha detto ma io ho giocato 12 volte il nero ma è uscito 12 volte il rosso ecco appunto no però se è un live va benissimo l'importante è che questi progetti li utilizzate sui live altrimenti non funzioneranno mai ora che sia un live perché entra dentro un casino fisico ossia online perché su un portale di scommesse di casino di roulette c'è il live va benissimo altro no io non garantisco altrimenti nulla ma sapete bene che ci ho fatto anche un video su questo che altri sistemi sono irrazionali sono state costituite delle stringhe apposta e le stringhe hanno costruite e costituite loro non noi quindi capite bene dove andiamo a finire insomma detto ciò è corredato come dicevo di due pagine questo è la versione premium come potete vedere però c'è una versione una versione scusate basic che è gratuita vabbè poi se fate una donazione grazie perché insomma ci si ammazza dove è un approccio sul metodo dei gemelli con una vincita matematica alla roulette con ammortizzatore molto carino è un primo approccio che può essere per chi non ha mai avuto un approccio nel settore della roulette per capire un pochettino anche i funzionamenti e tanti fattori data anche la buona interazione che c'è col software che poi andremo a vedere chiaramente la versione premium prevede il metodo dei gemelli sempre convincita matematica della roulette però con ammortizzatore della costante di fibia la costante di fibia così facciamo un po' di cultura non è altro che una correlazione della natura stessa tramite la matematica che si rifà poi concettualmente alla metodica di fibonacci in questo caso quindi averla creata per il metodo dei gemelli che è uno dei metodi più importanti che si usano nei casi di una certa importanza in questo caso ci garantisce un ammortizzatore nel tempo che è quello che cerchiamo perché perché la mission numero uno di max math e di scommesse matematiche è quella che prima impariamo a non perdere e poi casi mai a fare incassi questa credo che sia la giusta metodica non tutti lo fanno tutti puntano immediatamente a dire questo progetto vi fa vincere una ferrari vi fa guadagnare un aeroplano vivrete di rendita costante ragazzi rimaniamo chiedi per terra e questi tutti questi meccanismi non li abbiamo creati noi ma li hanno creati nostri avversari quindi o impariamo a conoscere le loro equazioni e su quelle invertire la situazione come disse un grande generale del 600 avanti cristo cinese che disse vogliamo vincere la guerra in primis dobbiamo conoscere noi stessi e che già non è facile e poi se non conosciamo i pro e i contro quindi i punti forti punti deboli dei nostri avversari la partita è persa e così è anche qui ora vi spiego quello che è stato creato questo è vedete qui c'è mm i più attenti sa dove significa money management sì ho creato un money management per il casi no con tutte le tipologie possibili di gioco esistenti e in più ovviamente questo gioco particolare questa scommessa particolare che è quella del metodo dei gemelli che ritrovate nel basic in forma molto più smonta ma comunque io so sempre perché qualcosa anche a chi non si può permettere o non vuole inizialmente investire sordi perché è un primo approccio gratuitamente bisogna comunque darle almeno per conoscere anche certi funzionamenti per chi conosce invece il settore credo che diventerà impossibile vivere senza questo software non lo dico io sono normalmente sono molto umile rimango umile però lo dico perché lo sto testando io e senza adesso software io non vinco questo software sto vincendo quindi qualcosa qualcosa ci avrà no adesso andiamo a vederlo insieme dai vi spiego subito qui interagirete quasi con tutto con queste caselle con queste caselle con queste caselle con tutto partiamo dalla cosa più semplice questa è la nostra cassa decidiamo che ne sono 200 euro di cassa dai va bene qui c'è il nostro oscillatore che ci dirà come vanno le cose se vanno bene se vanno male quindi questo varierà costantemente e qui di volta in volta decideremo quanto puntare lui ci dirà qua giù automaticamente quale sarà il metto una volta che vinciamo qui sceglieremo che tipologia di gioco effettuare e partirà quindi il contatore del numero di giri di attesa prima di entrare a giocare ecco dove la furbata e lui ci dirà anche quanto dobbiamo attendere qui abbiamo ovviamente quindi riporteremo i nostri esiti qui segneremo i numeri che escono anche se escono due volte lo stesso numero hanno metteremo esce uscito il 9 ok un ok una volta ok è uscito ancora il 9 due volte ok questo ci servirà per chi conosce il sistema della roulette chiaramente perché nel lungo periodo avremo mediamente quanti numeri sono usciti quanti no quante volte per le varie tipologie di gioco immaginate che adesso state voi davanti al vostro monitor con una bella roulette online live e avete questo software attendete i giri e cominciare a segnare certe cose che adesso ci dirà lui in attesa di entrare all'improvviso e puntare ok facciamo un esempio in che vi posso dire decidiamo oggi di puntare su una sestina allora la regola della sestina qui sono tutte le regole è quella di puntare su sei numeri vicini due due linee da tre fondamentalmente qua se lo fate nel live e dovrei puntare il vostro oggettone in quest'area che si intersega ad esempio atti questo vuol dire che voi avete puntato una certa quota su questi sei numeri vabbè chi conosce le regole lo sa facciamo la stessa cosa pure noi ragazzi io decido di puntare un gettone qua va bene quindi coprire uno due tre quattro cinque sei adesso noi a livello mnemonico copriremo questi sei numeri che sono i numeri di nostro interesse giusto no va bene tre quattro cinque e sei allora io ho scelto un tipo di gioco che la sestina eccola qua dove 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 eccola qua la sestina quindi interagiremo con questa casella queste no se avessi giocato sul numero fisso avrei fatto questo se avessi fatto il rosso e nera questo e così via ci sono tutte le possibilità adesso facciamo la sestina qui c'è un contatore di eventi che riporteremo di volta in volta ed è fondamentale per capire quando entrare in gioco quindi abbiamo stiamo per creare un ammortizzatore di entrata in fasi successive in attesa di un evento utile fantastico ma chi ce lo dice a noi come funziona quanto devo aspettare questa tabella ci dice tutto questa tabella ci dice quanto ci pagano le varie tipologie di giocate andiamo sulla sestina la sestina qui c'è scritto per 5 perché in realtà la sestina paga sei volte la posta se io qui metto ad esempio 5 euro che voglio puntare 5 euro a turno su questa sestina in realtà il casinotti paga sei volte la posta quindi tene da 30 ma noi non dobbiamo ragionare sui 30 perché di queste 30 5 era il nostro investimento in realtà l'utile di quant'è di 25 cioè cinque volte la posta adesso abbiamo fatto una scelta lavoreremo su quest'area quella della sestina andiamo a vedere il nostro software cosa ci dice ci sono dei calcoli di probabilità che millenari in questo caso direi dal da quando è nata la roulette che non si sa quando è nata addirittura si parla in alcuni casi di ora si parla di centinaia centinaia di anni fa probabilmente dall'asia però in realtà si sono perse un po le tracce però pensate quanto è antico questo gioco ci dice che mediamente se giochi una sestina quei numeri che tu hai hai scelto escono circa il 16 virgola 22 per cento delle volte quindi teoricamente su 100 giocate 16 volte dovrebbe uscire anche uno dei vostri numeri noi non possiamo aspettare 100 giocate ragazzi se non facciamo notte allora andiamo a vedere ok noi abbiamo preso questo tipo di logica di giocata andiamo a inserire questo coefficiente 16 virgola 22 eccolo qua oh e c'è un numerino qua che ci dice il numerino che è sto sei ci sta dicendo che mediamente nel medio e lungo periodo quei sei numeri che abbiamo preso escono tra il primo e il sesto numero uno di questi sei numeri dovrebbe comunque uscire entro sei giocate questo nella media potrebbe uscire dopo una giocata e vincere subito ma nessuno ci veda di pensare che potrebbe uscire uno di questi sei numeri anche dopo dieci giocate questa è la media matematica ma sapete che ci sono delle oscillazioni ed è per quello che esiste scommesse matematiche chiaramente questo vale anche nel betting dello sport lo sapete no come mi muovo io bene perfetto allora dobbiamo fare una scelta la scelta è attendere e capire quando questo tipo di giocata fa sì che le sue quotazioni come nella borsa prendano piede ci sono due ipotesi quella più tranquilla dove a volte potete stare pure 40 minuti senza investire ma chi se ne frega in realtà non state perdendo niente ma quando investite siete quasi sicuri al 99 per cento di incassare andare inutile quindi questo è già un discorso chi è un po' più azzardato nel senso che se mediamente uno di questi sei numeri che abbiamo preso in considerazione uscirà entro la sesta giocata vuol dire che se noi attendiamo ad esempio quattro giocate e il numero non esce abbiamo ottime possibilità che entro la decima giocata prima o poi solo uno uscirà facciamo una prova dai facciamo così allora noi vogliamo attendere quattro giocate prima di quattro giocate non entriamo se esce prima chi se ne frega riconciamo da casa andiamo a quest'altra area quella di gemelli cosa c'è qua? un simulatore casuale questo simulatore fa esattamente quello che fa la roulette la roulette gira il pallino si ferma sul numero è totalmente casuale se parliamo di roulette live ricordiamoci sempre questo live questo fa la stessa cosa adesso gli diciamo di cominciare a lavorare per noi quindi facciamo in questo caso delle simulazioni perché dobbiamo prima simulare prima di entrare nel vivo del gioco impariamo a simulare avvia ci dice che è uscito il numero 10 benissimo andiamo qua scassiamo il numero 10 1 ok è uscito una volta andiamo qua ricordiamo che è uscito una volta noi non stiamo perdendo nulla stiamo attendendo il momento giusto per entrare una volta che noi mettiamo qui il numero o qualsiasi numero lo aggiorniamo lui automaticamente ci ha già generato fondamentalmente un altro numero 31 benissimo eccolo qua il 31 il 31 non fa parte dall'1 al 6 quindi al momento va tutto bene stiamo attendendo adesso è uscito un 24 benissimo andiamo sul 24 ce lo aggiorniamo abbiamo già fatto 3 giri a vuoto dopo il quarto giro a vuoto potremmo pensare seriamente di investire vediamo un po' 28 benissimo eccolo qua il 28 4 giri io allora come sono fatto io io sto qua tranquillo mi sto seduto aspetto il sesto giro però facciamo un esempio aspettiamo se va va se no ciccia ecco appunto è uscito il 3 quindi in teoria io sono uno che preferisce attendere anche di più per rischiare meno altri dopo 4 tentativi dicono vabbè ma entriamo se fosse entrati sarebbe uscito uno dei vostri numeri chiaramente l'avreste segnato immediatamente quindi al primo colpo in questo caso cosa sarebbe accaduto qui cosa avremmo inserito in questo caso abbiamo giocato una sestina la sestina abbiamo detto che paga un letto di per 5 e qui dentro non faremo altro che mettere il nostro per 5 e ci dice guarda che hai fatto un letto di 25 euro perfetto mettiamocela in tasca 25 euro chiaramente c'è un'oscillazione a rialzo dalla cassa di partenza ora cosa facciamo in questo caso dobbiamo essere furbi sono stati fatti ben 4 giri 5 anzi questo era il quinto perdonate 5 giri era il quinto sì 1 2 3 4 e 5 perfetto avete notato che ci sono delle aree di sestina che non sono state toccate ad esempio questa 4 5 6 7 8 9 benissimo allora cosa faremo noi qui facciamo un bel reset qui ci pulisce questa schermata e prenderemo il 4 il 5 il 6 aspettate che li ho ripuliti il 4 ok il 5 il 6 il 7 il 7 l'8 e il 9 ora vi rendete conto che già sono 5 eventi di seguito che non esce nessuno testi numeri in teoria anche il discorso fatto per questi vale anche per questi quindi dobbiamo decidere noi quando puntare uno a questo punto potrebbe aspettare ancora un giro quindi dove andiamo fuori la matematica perché in teoria dovrebbe uscire entro i primi numeri ma aspettiamo decidiamo di ripuntare sempre 5 euro semplice vediamo che succede qui azzeriamo noi l'incasso l'abbiamo fatto è apposto numero 16 benissimo eccolo qua attendiamo 6 giri e a questo punto direi vabbè ma entriamo possiamo entrare perché cavolo sono dopo 6 giri nessuno di questi numeri è uscito in teoria dovrebbe uscire almeno 1 benissimo andiamo quindi contro le probabilità negative dobbiamo andare per forza in positivo cominciamo a investire 5 euro è uscito un 34 benissimo segneremo 34 erano arrivati a una cassa di 2 e 25 ricordatevi bene abbiamo sbagliato meno 5 ovviamente ci abbassa la cassa andiamo avanti ripuntiamo altre 5 euro 27 eccolo qua 27 non abbiamo preso niente perché non fa parte della nostra fascia aggiorniamo qui devo aggiornare pure quello di prima scusate meno 5 allora fino adesso abbiamo fatto 8 giocate e si rubano insomma usciti ma andiamo avanti 18 ecco qua 9 giocate metteremo un altro meno 5 andiamo avanti 28 ecco 28 che è già riuscito anche prima quindi adesso metteremo 2 volte aggiorniamo ancora metteremo ancora meno 5 andiamo avanti 4 eccolo qua preso fantastico perché perché abbiamo atteso più della media adesso quanto dobbiamo inserire qua abbiamo detto avendo giocato una sestina per 5 già sappiamo quanto ci pagano 25 quindi andiamo a inserire nuovamente 25 e da 2.25 adesso siamo a 2.30 questo è un sistema molto carino ad esempio noterete che adesso non esistono più sestine pulite non ci sono più in ogni area c'è almeno un ok ma l'abbiamo sfruttata al massimo questo è un sistema molto intelligente adesso chiudiamo tutto ad esempio puliamo tutto con il nostro reset table la nostra nuova quantità economica di 2.30 la andiamo a segnare dobbiamo segnarla qua e voi vi faccio vedere perché la segniamo qua facciamo un reset di questa colonna di investimenti di entrate e d'uscita ripuliamo anche questa a mano questa ammai con il reset perché sennò vi scordate quant'è la puntata pure questa è la ripulita a mano perché ci serve come netto e questo pure lo togliete di mezzo perché ovviamente non sappiamo adesso cosa andiamo a fare ripuliamo tutta la nostra tabella è tutto pulito ora questa cosa che vi ho fatto vedere io la potete fare con un numero singolo con il rosso e il nero facciamo un ultimo esempio e poi passiamo ai gemelli dove c'è anche la versione gratuita facciamo il rosso e il nero il rosso e il nero a questo punto a parte che sapete bene come funziona questa penso è una degli approcci più semplici che con questo lo conoscono tutti come pari o dispari dicevamo allora una tecnica che uso io che segue fondamentalmente anche l'andamento del nostro software allora la rossa e il nero innanzitutto ci dice che esce il 48,65% delle volte ok quindi adesso qui inseriremo il 48,65% delle volte benissimo lui ci dice chiaramente che a livello statistico e matematico mediamente su due giri esce una volta il rosso esce una volta il nero ma non è sempre così magari fosse così cosa dobbiamo fare noi dobbiamo aspettare un evento per la quale come al solito tutto venga a nostro favore la tecnica più semplice in assoluto normalmente è quella di attendere almeno il doppio dei giri cioè che esca per 4 volte il nero nel momento che esce 4 volte il nero o 4 volte il rosso dipendono noi cominciamo a puntare sul colore opposto questo ci permette nel breve periodo in questo caso di rientrare abbastanza velocemente io non amo molto il rosso e il nero a dire la verità è chiaro poi adesso con il vostro generatore casuale potete vedere che dove riescono e questo serve fondamentalmente ribadisco è un simulatore vero e proprio anche per capire dove vi trovate meglio una volta che avete capito qual è la vostra tipologia di gioco io l'avete vista io mi trovo benissimo in questo caso assolutamente con le sestine e vado sempre in attivo nel lungo periodo però ognuno ha una propria tipologia di gioco questo software chiaramente quindi vi permette facciamo ad esempio una quartina prendiamo una quartina la quartina ce l'abbiamo ci ha spiegato com'è fatta che sarebbe quadrato in questo caso io prendo 4 numeri adiacenti punto quindi al centro e cosa aspetto in questo caso però aspetto anche in questo caso ho dovuto già uno storico qui con dei numeri che sono usciti in tutta l'area e mi accorgo che c'è una quartina vuota allora mi era rimasto vuoto il 2,5 il 3,6 eccola qua e mi preparo la mia quartina ma anche qui ovviamente attendo che cosa attendo e lo vediamo subito quindi sarà sempre lui a dirci quando entrare ok qui guardo le quartine le quartine sono pagate per 8 normalmente per 9 ma sapete il motivo e con una percentuale di uscita del 10,81 benissimo 10,81 lui ci dice che mediamente ogni 9 volte esce la quartina che abbiamo inserito noi quindi cosa aspetteremo noi io lo sapete come la penso io aspetto 9 volte se non è uscita comincio a puntare decido quanto puntare e vado avanti ribadisco questo è un sistema vincente ma basato sia grazie a un money management è un calcolatore che ci dice quando entrare in azione ma è basato sulla pazienza ma è normale che sia così io vi faccio notare che con la pazienza io dopo in realtà se ci pensiamo noi ogni minuto c'è un giro di ruletta ora io saranno usciti se no 30 minuti da quando abbiamo fatto quelle due giocate famose con la sestina tra numeri d'attesa e numeri che poi è uscito fuori se fosse stato non nella virtuale ma se fosse stato reale ora in 30 minuti io resta il fatto che me ne sono andate a casa con 30 euro capire il potenziale e uscite proprio fuori dall'aigo uscite pure dal casino andate a fare passeggiare è meglio rientrare il giorno dopo un'ora dopo tranquilli ripetete controllate le uscite ve le segnate e lui automaticamente in base alla tipologia di gioco che andate a fare vi dirà quando entrare in azione e in cassare fine quindi software che vi permette di interagire con il mondo qua della roulette detto ciò andiamo a capire questa metodica particolarissima dovete sapere che molti giocatori i più esperti giocano la metodica dei gemelli molti la conoscono e altri no parlo con chi non conosce questa metodica chiaramente e cioè i gemelli non sono altro che i numeri in questo caso uguali cioè 1, 1, 2, 2, 3, 3 noterete che in questa area al contrario di questa effettivamente questi tre numeri hanno un colore diverso cosa qual è il funzionamento? è molto semplice attendere che la roulette faccia uscire uno di questi tre numeri cioè uno dei gemelli nel momento in cui esce uno dei gemelli noi dobbiamo puntare ma cosa puntare? questo è un gioco bellissimo io l'ho fatto in simulazione con Rino Antonini che è lui che mi ha dato l'idea del metodo dei gemelli anzi mi ha spiegato lui quindi ringrazio il carissimo amico Rino di questo mi ha spiegato la cosa ha detto ok Rino mi ha detto che funziona verifichiamo insieme facciamo un software e verifichiamo se funziona vi posso garantire che io non sono arrivato mai al nono step io entro tra lo step 1 lo step 8 ho sempre chiuso e ho sempre incassato io sono stato incapace in un'ora di incassare la bellezza di quanto ho incassato? 60 non mi ricordo 60 spicci euro pulita impressionante impressionante 60 euro un'ora al giorno 60 euro c'è gente che 60 euro lavorando 8 ore al giorno spaccandosi le ossa non le vede ma neanche se ti ammazzi e funziona anche questo ma tanto lo potete fare anche in simulazione o che usate il simulatore casuale o ve lo andate su una su una live di un casino online e guardate e fate le simulazioni vedrete che è impressionante è impressionante allora come funziona? è stato statisticamente provato che normalmente ma questo proprio è un periodo di lunghissima storia che quando esce l'11 il 22 il 33 i numeri che normalmente maggiormente poi vanno ad uscire anche per un fattore di posizionamento all'interno della roulette che è circolare i numeri che più spesso escono sono questi successivamente sono questi ora facciamo un esempio insieme attendiamo che esca o l'11 o il 22 o il 33 ci siamo no? benissimo e vediamo cosa fare intanto decidiamo quanto investire chiaramente voi dovrete investire in contemporanea su questi numeri la stessa quantità allora facciamo le cose piccoline investiamo 10 centesimi per ogni numero va bene? e lui già ci dice quello che accadrà qui dovremo interagire quando prendiamo il numero uno di questi numeri e confermeremo confermeremo il coefficiente unitario che abbiamo investito cioè quello di uno di un numero cioè lo 0,10 va bene? guardate cosa accade qui c'è il numero degli step allora adesso cominciamo a vedere quando esce questo benedetto numero aspettate questo lo devo attivare ma non importa allora andiamo qua facciamo un reset è uscito lo 0 niente attendiamo e non dobbiamo solo attendere in questo caso reset è uscito il 32 dobbiamo aspettare che esce l'11 il 22 il 33 niente quindi voi quando dovete fare reset cambiate sempre la pagina il reset è il riavvio numerico niente reset è uscito finalmente l'11 adesso dobbiamo investire investiremo nello step 1 eccolo qua pronti? io quando cliccherò qua metterò 1 lui genererà un altro numero vediamo che succede adesso investiamo 1,20 euro fondamentalmente 10 10 10 10 centesimi su questi numeri perfetto via è uscito il 23 non ce l'abbiamo benissimo dobbiamo passare allo step 2 ci ridice di ripuntare nuovamente 10 centesimi 10 centesimi 10 centesimi andiamo avanti andiamo allo step 2 giro è uscito l'8 niente step 3 ci dice di puntare 20 centesimi su ogni numero terzo step 19 niente nessun problema andiamo avanti quarto step ancora 20 centesimi su ogni numero 9 è uscito ora vi faccio vedere adesso è uscito il quarto step che è quello che non crea economia tutti gli altri creano economia ma è un piano d'ammortamento matematico infatti adesso se io dico che qui abbiamo preso la giocata da 20 centesimi confermo 0 20 lui mi dirà che ho recuperato tutti i debiti e ho finito a 0 finendo a 0 io sul mio storico non aggiornerò un bel nulla ricominciamo facciamo il raise it table azzeriamo tutto ovviamente l'unica cosa che non azzeriamo è lo step lo riportiamo manualmente a 0 in questo caso e ricominciamo ricominciamo e vediamo cosa accade pronti? vi faccio vedere quello che accade adesso facciamo così e torniamo qua allora qui fate un raise it table 26 dobbiamo attendere l'11 il 22 e il 33 raise it table niente raise it table non dobbiamo solo attendere non dobbiamo contare nulla aspettiamo che esce un gemello ecco qua è uscito il gemello perfetto è uscito il gemello 11 e adesso possiamo puntare dobbiamo decidere quanto puntare in questo caso io punterò ad esempio 10 centesimi su ognuno di questi numeri mi tengo basso ok ogni tanto continuo a lavorare non ce ne frega non ce ne frega niente ok adesso cosa facciamo noi dobbiamo fondamentalmente cominciare a puntare e a mettere il numero di step allora step 1 chiaramente adesso se io faccio step 1 lui mi darà un numero 14 eccolo qua beccato quindi noi al primo tentativo abbiamo subito beccato la combinazione casualmente vi faccio notare quanto questi numeri in realtà siano associati ai tre gemelli è incredibile l'avete visto adesso voi quindi io adesso ho subito preso qui confermo il coefficiente di investimento unitario che era di 10 centesimi quindi scriverò semplicemente 10 centesimi e lui mi dice che ho avuto un netto di 2.40 pulite 2.40 eccole qua messe in cassa ho 2.40 in tasca ragazzi adesso cosa facciamo beh chiaramente l'avete capito io mantengo i miei 10 centesimi di partenza ricominciamo tutto da capo allora reset table dobbiamo aspettare che cosa i gemelli esci di un 6 non ci interessa esci di un 15 non ci interessa 5 non ci interessa dobbiamo avere pazienza così facciamo i soldi 17 non ci interessa fate finta che adesso ogni 40 secondi ogni minuto la rullenta gira davvero nell'aipano quindi voi aspettate guardate guardate attendete un gemello eccolo è uscito anche in questo caso il gemello possiamo ricominciare allora in questo caso dobbiamo sarebbero step 1 chiaramente è uscito il 25 25 ce l'abbiamo no adesso puntiamo altri 10 centesimi ah qui dobbiamo serarlo ragazzi giustamente adesso passiamo allo step 2 che sarebbe stato questo in realtà il 18 18 è uscito fuori ci ha cambiato il numero perché ho cliccato qua 18 è uscito fuori quindi allo step 2 abbiamo nuovamente incassato i 10 centesimi e mettiamo 0 10 incassato abbiamo confermato i 10 centesimi e ci dice che abbiamo guadagnato 1 euro e 20 perfetto 1 euro e 20 allora vi faccio vedere una cosa io avrò girato mediamente ogni volta 6, 7, 8 volte prima che uscisse un gemello quindi è come se avessi perso 6, 7 minuti 8 minuti più la giocata stessa da quando è uscito il gemello chiudendo il primo step al quarto step al secondo step questa è una dimostrazione che già io dopo 15 minuti in questo caso ho incassato 3 euro e 60 ovvio che più andiamo avanti negli step più a un certo punto partirà la costante di filia e proporzionalmente all'aumentare dell'investimento anche gli utili aumenteranno risettiamo tutto in questo caso ripuliamo proprio tutto tutto ok anche gli utili aumentano questo è fondamentale facciamo un esempio se fossimo arrivati all'ottavo step guardate che succede vi dico subito al primo step è incassato i 2 euro e 40 al secondo step è incassato i 1 euro e 20 partendo da 10 centesimi al terzo step è incassato i 2 euro e 40 non ci prendete? guardate pulite pulite copre tutti gli investimenti precedenti e incassate i 2 euro e 40 al quarto step non incassate niente finite 0 perfetto recuperate tutto e basta al quinto step vediamo che succede 2 euro e 40 capite cosa ho creato no? come ho ammortizzato la cosa al sesto step 2 euro e 40 recuperate tutto e incassate sempre 2 euro e 40 adesso a breve parte però la costante di figlia la costante di figlia non prevede più una forma di raddoppio 10 20 20 40 qui già la costante di figlia non fa più 40 80 fa 40 60 quindi invece di fare 1 euro e 20 fa 1 euro perché? perché usiamo la metodica di Fibonacci la metodica di Fibonacci in realtà in questo caso ci serve come il pane sul medio e lungo periodo se le cose non vanno bene semplicemente per il fatto che tamponiamo le rivalutazioni degli investimenti che è fondamentale chiaramente ma piano piano anche l'utile che andremo ad ottenere nel momento della chiusura tende a salire facciamo finta che non avessimo preso neanche questa che siamo proprio sfigati stiamo all'ottavo step io non sono mai uscito fuori dall'ottavo step l'ho detto 7 euro e 20 di incasso puliti quindi nell'arco di un'ora capace che per tre volte voi incassate in questa fascia quindi incassate 21 euro e 60 poi le incassate di qua 4 euro 4-5 volte quindi subito fondamentalmente in un'ora due ore andate a guadagnare dalle 20 alle 80 euro io ho fatto una media dipende anche un po' dalla fortuna ma che comunque chiudete sempre e questo è poco ma sicuro quindi questa è la metodica dei gemelli bellissima poi ci sono delle spaccettature su questa metodica casomai ne faremo un video successivo e faremo anche altre metodiche nei video successivi qui nella forma gratuita come potete vedere non avete in questo caso un calcolatore che fa delle simulazioni non avete i reset però avete fondamentalmente le impostazioni in base con cui interagire quindi anche qui vedete vi dà già le proporzioni assolutamente se chiudete il primo step dopo che aspettate il numero e confermerete il vostro investimento unitario vi dice guarda è incassato 2 ore e 40 bene 2 ore e 40 e vai e sotto vi riporta la sommata della data di incassi quindi questo io ve lo regalo se volete solamente questo chiaramente più crudo però ci ho perso pure poco tempo perché questo fondamentalmente l'ho riprodotto in maniera semplice dal lavorone che sta qui questo sì ora ribadisco chi ama questo settore tecnicamente non può fare almeno della cosa del genere tanto non esiste il giro così almeno come è stato impostato dove lui vi dice dopo quanti girati dovete entrare per essere sicuri di andare in attivo e ammortizzate la spesa c'è l'oscillatore scegliete la tipologia di gioco e ve la seguite ad esempio c'è un altro sistema bellissimo e ve lo accenno quello di giocare su un numero unico in questo caso l'attesa è lunga ma è eccezionale facciamo un esempio io non so quale numero voglio giocare sto lì a quarto sto a 40 minuti 50 minuti a guardare le roulette che girano però voglio giocare 10 euro a botta mi dice mazza ma che sei matto però aspettate aspettate io faccio uscire tutti i numeri questo uscirà 4 volte questo 2 volte tutti i numeri finché non rimane solo un numero free libero sono usciti tutti i numeri ma ad esempio il 12 non è mai uscito vi rendete conto che per farci tutti i numeri non dovete aspettare 37 giri ne dovete aspettare anche 50 60 perché nel frattempo alcuni numeri sono usciti 2 volte 3 volte 4 volte quando arriverete che è solo un numero da quando siete entrati ad osservare non è mai uscito ragazzi è il momento chiaramente di puntarci sopra a quel punto voi avete la bellezza di 35 tentativi successivi per poter guadagnare esattamente dove vestite 10 poi 10 poi 10 certo in questo caso un budget di 350 euro cioè dopo che non è uscito per 50 numeri ad esempio per 55 numeri 55 volte e vi è rimasto solo sto numero è l'esempio voi avete ancora altri 35 numeri a disposizione per andare in attivo chiaro che se esce subito guadagnate 350 se esce al secondo tentativo ne guadagnate 340 se esce al terzo 330 a scendere ma avete capito che potenzialità ha questo progetto se gestito tramite questo tab che vi conteggia e vi fa seguire tutto quanto anche perché se andate dal vivo dovete stacco carta e penna e vi rimbambite su live online normalmente vi riportano o gli ultimi 10 o gli ultimi 12 numeri quindi poi perdete tutto dovete stacco carta e penna fare le verifiche ancora già qui avete tutto sotto ma nel momento che esce nel live online un numero avete tutto il tempo di andarvelo a segnare di aggiornare la vostra giocata di ritornare cliccando sulla pagina web dove state e aspettate ma questo crea un'economia fortissima io ho testato l'ho visto funziona fatelo pure voi in questo caso fate una simulazione ma anche tramite il live online non puntate state lì guardate ogni tanto buttate 10 centesimi tanto per far vedere che giocate perdete un po' di tempo e creerete una forte economia chiaramente quindi il money management gemelli e premium solo una forma più umile e semplice gemelli per chi approccia oggi in questo settore io come al solito lo regalo è stato faticoso questo progetto quindi se lo comprate grazie perché vi fidate Max Matt se volete il basic chi può una piccola donazione per il tempo perso e potete immaginare che sto lavoro non è stato fatto in un giorno perché santi Dio sarebbe impossibile noi siamo sempre disponibili anche a chiarimenti se qualcuno potrebbe anche scrivere ma in quel caso se gioco la tecnica del cavallo Max quanto vi conviene aspettare ve lo spiego in chat su telegram ve lo spiego mandatemi una mail ve lo spiego in descrizione come al solito c'è scritto quale sono le procedure per richiedere gratuitamente file come le procedure per acquistare il file qual è la mail a cui rivolgersi c'è scritto tutto come sempre ci sono in descrizione anche i canali telegram come poter entrare e avere quindi nozioni ancora maggiori di quelle che vi do regolarmente sui video youtube un forte abbraccio da Max Matt e scommesse matematiche e un grande in bocca al lupo per le vostre scommesse grazie a tutti